Il comune di Napoli celebra il giorno del ricordo in memoria delle vittime degli ecidi delle foibe con un incontro pubblico voluto dal sindaco De Magistris cui hanno preso parte anche alcuni studenti del liceo Pansini. Durante la seconda guerra mondiale la popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia fu oggetto di una violenta persecuzione che da un lato aveva motivi di rivalsa contro il fascismo dall'altro preparava il terreno alla dittatura eliminando i potenziali oppositori. Le vittime venivano precipitate nelle voragini carsiche tipiche di quelle zone dette appunto foibe. Fu una barbarie ebbe a dire il presidente napolitano che assunse i sinistri connotati di una pulizia etnica. Alla fine della guerra oltre 250.000 italiani dovettero abbandonare l'Istria e la Dalmazia. All'incontro hanno preso parte anche alcuni rappresentanti dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. L'assessora all'istruzione Anna Maria Palmieri, fra i promotori dell'iniziativa, ha ricordato che i massacri delle foibe furono il frutto velenoso di un momento storico che esaltava l'identità come fattore di antagonismo e discordia fra i popoli. Una lezione della storia ha continuato la Palmieri che obbliga a riflettere sulla necessità di costruire una società dell'accoglienza e della multiculturalità. Se noi non riusciamo a costruire spazi non di convivenza ma di condivisione della ricchezza del creato, il nostro destino è quello di passare da una guerra all'altra. Vedete, diceva Troisen, il padre della storiografia contemporanea, se io sto in una foresta vedo l'albero ma non riesco a capire che sono in una foresta e così facciamo noi quando parliamo della nostra storia. Se noi riusciamo a tirarci fuori e vedere anche le storie degli altri, noi la foresta non la vediamo, faremo sempre la guerra. Il messaggio secondo me oggi deve essere questo, la diversità è una ricchezza e democrazia e solidarietà e non è invece pericolo da cui scappare. La storia, la memoria serve a questo, per ricordare oggi che genocidi e orrori ancora in diverse parti del globo sono presenti ancora tuttora.